Presto su questi schermi a Milano in zona 7, un gruppo di folli, un'idea, l'improvviso, il nuovo progetto di mare culturale urbano, l'attivazione, la ricerca, l'accessibilità, la signora venuta da lontano, con la straordinaria partecipazione di tutta la comunità locale, il gelataio, il rischio, la miss, una bandiera, recuperare una cascina del 600 in via Cegni, un cantiere, il legno, la colla, la madonna, una meravigliosa impresa in un luogo folle, il controllore, la prova il prototipo il sopravvissuto un'impresa folle in un luogo meraviglioso per un cortile comune per la comunità per te per stare insieme partecipa al crowdfunding un forno di comunità per il pane di tutti una casetta dell'acqua senza più plastica l'autocostruzione di ciò che ci piace e ci serve spazi di lavoro flessibili e connessi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti